buongiorno benvenuti a questa video analisi del 2 maggio 2016 video analisi che potete ricevere gratuitamente via email o anche vederla sul canale gratuito telegram che un'applicazione free simile a whatsapp per certi versi anche migliore come fare molto semplice se lo state vedendo questa video analisi sul pc passate col mouse sopra la mia faccia il mio volto o se siete su dispositivo mobile tablet smartphone toccate lo schermo e vedrete comparire magicamente sopra la mia testa la lettera i di imola cliccate sulla lettera i uscirà vedrete una piccola finestra cliccando lì vi riporta al mio sito che vi spiega come ricevere questa video analisi e vi invito a fare molta attenzione perché quella in corso potrebbe essere la svolta dell'anno 2016 inizio anno si parlava spesso avrete letto di tempesta perfetta quella che è in atto in corso potrebbe esserlo per il mondo delle valute perché faccio un comincio prima con i mercati non oggetto di questa analisi visto che però comunque sono quotati in dollari mi riferisco ovviamente al petrolio che ha ripreso a correre addirittura adesso si parla di un ritorno ai 50 dollari petrolio quotato in dollari così come è quotato in moneta usa almeno preso come riferimento a livello mondiale l'oro che ha superato una resistenza importante ha ripreso la corsa a rialzo d'inizio 2016 dove veniva identificato come in contrapposizione all'andamento ribassista dei mercati azionari oro che tornava a volte sia a volte no come visto come bene rifugio e adesso invece vado a incastrare questi tasselli questi pezzi mercati azionari che sono anch'essi in una situazione di correzione dalle resistenze toccate dai massimi toccati recentemente lo vedete tutto nell'analisi intermarket invece dollaro yen ufficialmente violato il supporto 108 e 04 dollaro yen viene anche qui ha una sua correlazione con i mercati azionari positiva solitamente con l'indice nikki e quello invece di wall street americani ovviamente essendoci la componente dollaro e yen si sta configurando quindi una situazione tale dove anche alla luce del pil negativo americano positivo quello europeo ha sorpresa che cosa succede quindi dollaro yen lo vedete lì alla mia destra rotto il supporto quindi si apre un nuovo scenario ribassista siamo già in fase test del livello 106 e vedremo che cosa accadrà certo è che l'estensione di queste candele rosse tale che ci vorrà del tempo per assistere ad una eventuale inversione al rialzo se no dopo quota 106 c'è un ex resistenza di vecchia data linee tratteggiate io le vado sempre a identificare come ex livelli supporti o resistenze che sono state violate e vedete 101 e 2 però è uno scenario ancora tutto da vedere video analisi sono io le mie analisi le faccio su base daily proprio perché ogni giorno sono lì a monitorare la situazione poi di conseguenza ve la pubblico qui tramite queste video analisi se non compare una candela verde tutto quello che sarà però ora come ora il trend ribassista rotto il supporto 108 siamo già in fasi test 106 fino a quando il canale la candela rossa e chi nasce si resta decisamente al ribasso quindi dollaro yen al ribasso altro cambio importante il dollaro contro franco svizzero che sapete benissimo con la candela rossa dello scorso 26 aprile è passato al ribasso e si sta avvicinando a quota 0 95 chi invece correlato inversamente va nella solitamente va nella direzione opposta l'euro dollaro da dove è partito un trend al rialzo attenzione ho alzato l'asticella diciamo così il livello di resistenza perché io la vado sempre a vado a tracciare il livello di resistenza sulla chiusura chiusura delle candele giapponese non ai kinashi infatti se io adesso ritorno alla visualizzazione con le candele classiche e vedete l'ho tracciata sul livello più alto la chiusura più alta del famoso 24 agosto lunedì 24 agosto il crash i mercati cinesi il crollo dei mercati cinesi che ebbe poi delle ripercussioni su tutti i mercati non solo azionari quindi ho alzato ripeto e fate attenzione se avete preso spunto dalle mie analisi 1 15 e 81 che comunque è sempre quella la zona aria però se c'è la violazione di 1 15 81 vado a dire andrò a decretare ufficialmente caduta violata questa mega resistenza e lì sarà il quadro rimetto intanto il grafico ai kinashi e questo ora come ora è l'ultimo tassello che manca perché intermarket petrolio al rialzo oro al rialzo il petrolio è partito prima l'oro è recente di oggi praticamente violazione venerdì da oggi nuovo forte trend rialzista tra le altre cose oggi 1300 lo vedo proprio adesso sopra 1300 dollari l'euro a sua volta sta pompando guardate lì 1 14 e 90 questo è l'ultimo prezzo 1 14 e 90 situazione davvero fortissima caldissima bollente quello che sta succedendo in questo momento sui vari grafici aspettiamo la violazione un altro sforzo siamo vicini oramai la vede la resistenza 1 15 e 81 quindi tante tante situazioni molto molto interessanti di analisi rispetto a venerdì scorso ci sono delle novità cad chf candela rossa ai kinashi sulla resistenza in aria 0 77 e 21 si chiude quindi tutto questo trend rialzista con la candela verde che si è formato l'otto aprile e ora come ora torna a puntare al sud del grafico e vedremo se ritornerà qui e se anche da queste parti tornerà a formarsi una candela verde se no il trend resterà rosso rosso ai kinashi vuol dire giù eur cad cominciano ad invertire al rialzo i cambi contro euro candela verde qui in questo caso sul supporto in aria 1 42 22 quindi adesso vedremo se avrà la forza per risalire 1 50 queste sono le fantastiche combinazioni del forex dove se ancora avete delle posizioni aperte a ribasso di euro dollaro con quella candela rossa che ve la faccio vedere c'era stata questa qui vedete la freccettina dopo questa candela rossa del 13 aprile che comunque era anche una candela rossa che si è formata prima del meeting della bce questo mettiamo qui e della fed dopo i due meeting è tornato a salire il cambio euro dollar che proprio in questo momento sta battendo i massimi giornate 1 14 93 leggo poco fa quindi se siete ancora a ribasso però magari potete già eur cad da oggi al rialzo quindi cominciare a invertire la posizione se non l'avete fatto già da prima forse ricorderete con questa candela verde dello scorso 22 aprile e quindi al rialzo dal 25 aprile su euro contro australiano dove dal prezzo 1 45 siamo 1 e 50 oltre 500 pips cinque figure al rialzo quindi già un'operazione genere li sta proteggendo dal ribasso euro dollaro con gli interessi perché ovviamente qui c'è anche la componente audi che a sua volta è al ribasso contro dollaro si incastrano e quindi amplificato il movimento di euro al rialzo di australiano contro dollaro al ribasso quindi viene tutto amplificato ma non c'è ancora un'altra possibilità per voi per dove vede l'euro al rialzo si chiude la fase ribasista di euro sterlina dalla candela rossa dello scorso 11 aprile quindi vediamo prezzo di apertura giorno successivo 0 80 un 300 quindi in questo caso ma questo è un cambio che si muove con i piedi di piombo molto molto non è sterlina contro yen praticamente candela verde su un livello fantastico questo qui dei 0 77 e 51 che se vado a estendere indietro nel tempo guardate resistenza supporto supporto fantastico questo è un livello molto molto interessante quindi ora come ora l'impostazione grafica tra euro e sterlina potrebbe vedere la nostra moneta i rapporti di forza tra euro e sterlina riprendere a correre al rialzo invece chi perde colpi per effetto della violazione del supporto di dollaro yen e l'euro contro yen qui i rapporti di forza la forza relativa tra euro dollaro e dollaro yen il movimento è stato maggiore nella coppia usd yen che ha portato alla rottura anche in questo caso del supporto euro yen prossimo livello andiamo a vedere bisogna andare parecchio indietro nel tempo eccolo qui 119 e 35 il primo supporto da monitorare quindi spero di essere stato chiaro tante tante situazioni grafiche tali che fanno pensare un movimento importante già partito su alcuni strumenti finanziari è già partito chiudiamo vedendo a questo punto completando l'analisi delle major ovvero degli cambi più importanti contro dollaro dicevo prima l'australiano continua sta prendendo corpo la correzione dalla resistenza 0 7801 neozelandesi invece stranamente invece ripreso a salire l'impostazione al ribasso sta nuovamente testando la resistenza 0 70 e 31 ma l'impostazione resta comunque ancora down al ribasso e infine il cross che è non infine penultimo perché c'è anche la sterlina usd card che è correlato negativamente con il petrolio perché il canada è tra i paesi che producono quarto quinto posto tra i paesi maggiori produttori maggior paesi produttori di petrolio quindi resta l'impostazione decisamente al ribasso è la sterlina che si sta prendendo solo una pausa oggi poi è chiuso il mercato è festa nel regno unito candela verde che oggi si assottiglia ma il trend resta rialzo certo è che siamo comunque su una zona di resistenza interessante quella in area 1 45 e 85 bene con questo è tutto vi ringrazio per la cortesa attenzione ed auguro a tutti voi una buona giornata attenzione ed auguro a tutti voi una buona giornata Grazie.